Il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta ha concluso a Palermo la campagna elettorale della candidata presidente della regione del centro-sinistra Caterina Chinnici. Giuliana Amicicchè. In concomitanza con la manifestazione di conclusione della campagna elettorale del centro-destra unito a Roma con sul palco Meloni, Salvini, Berlusconi e Lupi, a Palermo il segretario nazionale del Partito Democratico Enrico Letta ha altrettanto concluso la campagna elettorale della candidata presidente della regione del centro-sinistra Caterina Chinnici, espressa dal Partito Democratico. E comiziando in serata Letta ha esordito riferendosi alla convention di Roma. Così, la manifestazione del centro-destra a Roma ha fatto venire fuori un'Italia tracotante che perderà. Gli italiani la faranno perdere ed è un bene che questa finta moderazione messa in piazza fino a oggi si sia svelata per quello che è. La destra italiana ha mostrato il suo vero volto. Ha spiegato agli italiani che loro cambieranno da soli la Costituzione, che la loro logica è quella dei Novax, contraria a tutto quello che ha reso possibile l'uscita dell'Italia dall'emergenza Covid. Noi a questa destra diciamo che la Costituzione è nata dalla resistenza e dall'antifascismo e non si tocca. E poi sull'eurodeputata, aspirante governatore della Sicilia, Letta ha aggiunto Il nostro impegno è fare vincere Caterina Chinnici e darle la possibilità di cambiare questa regione. La Sicilia ha bisogno di un cambiamento radicale, di competenza, onestà, unità. Sono venuto a Palermo per dare l'impulso finale. La Sicilia merita un presidente come Chinnici e non la destra. Noi puntiamo a vincere e ad avere la maggioranza. Il fatto stesso che io sia qui rappresenta la dimostrazione di quanto crediamo nella Sicilia è in Caterina Chinnici. E poi sulla spaccatura traumatica con il Movimento 5 Stelle dopo le primarie e nell'eventuale prospettiva di una convergenza di governo, Enrico Letta ha affermato Voglio ricordare i 32.000 elettori partecipanti alle primarie in Sicilia che i 5 Stelle hanno dimostrato di non mantenere la parola data. Noi, al contrario, siamo sempre stati lineari e per questo saremo premiati. E anche Caterina Chinnici è intervenuta su tale argomento. L'uscita del Movimento 5 Stelle dal campo progressista ha cambiato gli equilibri in campo a vantaggio degli avversari. Questo è un dato di fatto. Sono stati spesi parecchi giorni per salvare il patto delle primarie. Poi è andata come sappiamo. Sarebbe stata tutt'altra partita. Invece oggi c'è questa partita. Più difficile, ma da giocare fino in fondo. Le persone che incontro mi manifestano stima, fiducia, speranza, sostegno. Mi danno molta forza. Vedo voglia di cambiamento e di dialogo. Questo mi piace. Realizzare e completare le infrastrutture per affrontare il tema della sanità.